Siamo con il Presidente e il Deputato del PD, Graziano Del Rio. Stasera Conte salirà al Quirinale, che cosa succederà poi da domani e su che cosa si lavora? Abbiamo fatto un primo passo, ma siamo consapevoli che il quadro è fragile in questo momento, quindi che necessita di essere rafforzato. Stiamo lavorando al rafforzamento della maggioranza perché abbiamo a cuore la gravità del momento del Paese. È un momento eccezionale, senza precedente, è una storia della Repubblica. La Repubblica richiede quindi risposte forti, richiede un governo autorevole e solido. La seconda e ultima domanda. Lei auspica, dopo i voti di oggi, sullo scostamento, anche una pausa dei lavori parlamentari per evitare incidenti più gravi in alcune commissioni dove scarseggiano i numeri? No, io penso che il Parlamento debba continuare a lavorare ed è importante che lo abbia fatto stasera. È importante che ci sia anche una convergenza, anche delle forze di opposizione su questo scostamento perché le risposte non possono tardare, i problemi non possono attendere. Quindi il Parlamento certamente non deve fare calcoli, deve dare le risposte di cui il Paese ha bisogno. E lavoriamo perché questo senso di responsabilità sia sempre più forte in tutti i parlamentari. Grazie. Grazie.